Sabrina, qual è l'ora del tè? Qual è il momento giusto per fermarsi e di cosa parla questo romanzo? È un piacere risponderti su questa domanda perché l'ora del tè è il momento in cui ognuno di noi capisce che è il momento di fermarsi, prendere una pausa anche da se stessi e quindi cercare di riordinare le idee, di respirare perché dobbiamo anche lasciarci un po' respirare nella vita. La frenesia dell'esistenza umana va sempre più veloce e spesso non riusciamo a stare a tempo invece con il nostro tempo, quindi bisogna darsi anche delle pause proprio per potersi ascoltare di più e ascoltare anche chi c'è vicino magari. Da dove nasce l'esigenza di pubblicare questo romanzo? Non è la tua prima uscita ma siamo usciti fuori dall'autobiografia e siamo passati invece nell'ambito del romanzo. Sì, veramente a me piace spaziare molto, quindi il primo era un libro racconto e raccontava appunto della storia della mia cucina, quindi parlando di tradizioni, di famiglia e di valori comunque un po' legati al territorio anche che è la Puglia. Con questo libro ho cercato di salire un gradino in più, nel senso che ho voluto che i miei lettori potessero comprendere anche che c'è dell'altro, oltre anche il food. Infatti il claim che uso sul mio sito, sul mio blog è proprio non solo food, perché si parte dal cibo per arrivare al convivio, come parlavo già nel primo libro, per poi estendersi alle relazioni interpersonali. Le relazioni interpersonali sono i rapporti umani e non possiamo esimerci dal coltivarli, da averne a che fare in qualche modo. Quindi mi andava di raccontare la storia che è comune a tutti, perché è la storia di vita, attraverso un viaggio, che è quello della protagonista, che si chiama appunto Margherita, che fa degli incontri, alcuni sono casuali, altri meno, e attraverso questi incontri c'è tutta quella che è la complessità del rapporto umano in sé, quindi delle relazioni interpersonali. Ho sviscerato degli argomenti, legandomi anche dei valori che spesso si tende a perdere purtroppo nella società odierna, e quindi appunto da questa storia, che è un po' comune a tutti, ci sono degli intrecci di vita. Da questi intrecci di vita si può evincere appunto un'idea, un modo di fare, un modo di vivere, che è diverso dal modo di vivere di un'altra persona con cui entriamo in contatto. A proposito di blog, lo nominiamo cedrospeziato.it, è un blog che è un progetto vero e proprio di comunicazione integrata, non c'è solo il food, e soprattutto è un blog che accarezza lo stile di vita slow. Sicuramente ho cercato, Cedro Speziato è una, io la chiamo una creatura proprio, perché è nato in un momento in cui avevo bisogno di tornare a comunicare anche parte della mia professionalità, se vogliamo, e quindi parte dal food per allargarsi agli ambiti della vita che sono comunque più, io credo, più interessanti. È un progetto di comunicazione integrata perché appunto è anche diventata una collana di libri, in questo caso, già sono al lavoro per il terzo, che sarà una favola, quindi anticipo questa chicca. Il primo libro è andato bene, il secondo sta comunque riscuotendo un dignitoso successo di critica. Comunque mi stanno arrivando dei feedback buoni, positivi, e questo mi incoraggia a continuare nella scrittura. Dietro tutto ciò c'è una professionista della comunicazione ormai da tanto tempo, che ha fatto un po' una piccola rivoluzione nella sua vita, appunto. È passata magari dal marketing, dalla comunicazione d'impresa, all'esprimersi in maniera molto personale. Sì, vabbè, io credo che ognuno di noi debba fare in un certo momento della sua vita una rivoluzione, nel senso che è importante essere sempre se stessi e cercare di comunicare quello che si vuole comunicare in quel momento, e quindi avvalorare la propria, in questo caso anche la propria professionalità, perché c'è bisogno anche di reagire con professionalità anche a dei cambiamenti, ecco, perché la vita non è mai piatta, non è mai uguale per tutti e nello stesso modo. Quindi sono ripartita appunto dal mondo della comunicazione, che è un mondo stupendo, a mio avviso, con tante falle sicuramente, però è un mondo che ti lascia a campo libero. Se lo fai con professionalità, questo lo riesci a comunicare, se poi piace, insomma, ti dà quella marcia in più e ti aiuta anche ad affrontare le piccole cose della vita.